L'ultimo bollettino idrologico dell'ARPA, che si riferisce alla settimana fra l'11 e il 17 febbraio, già indicava una triste primavera, con il livello del Po a Cremona già sotto i bassissimi livelli del 2003. All'anno 2018, generoso di piogge, tanto da superare ampiamente la media degli ultimi dieci anni, con una lieve piena in novembre, è subentrato un 2019 già arido e siccitoso. Le precipitazioni sono deboli, le temperature costanti, in montagna non nevica proprio e anzi si sono già registrate a metà febbraio temperature primaverili attorno ai 15 gradi. Il cambiamento climatico insiste minaccioso e il Po si svuota, cala di livello da due settimane e oggi pomeriggio è sceso ancora, a meno 6,65 metri, solo un metro e 12 centimetri, sopra il minimo storico, che risale al 2003. È magra anche per gli altri fiumi della provincia di Cremona, mentre il volume delle acque invasate nei grandi laghi lombardi diminuisce e i bacini dell'olio, dell'Adda e del Serio presentano quindi tendenza negativa. Nella settimana fra gennaio e febbraio gli afflussi in entrata nei fiumi erano molto aumentati, da allora però si stanno riducendo. L'indice dell'equivalente idrico della neve rispetto a un anno fa è in forte diminuzione per l'olio e l'Adda sotto la media delle ultime stagioni. Si prospetta già a fine febbraio un anno di siccità, nel quale la guerra dell'acqua si inaspirà di nuovo, tra agricoltori che chiedono di irrigare e bacini idrici alpini che non vogliono cedere. L'anno scorso la Regione e l'autorità di Bacino hanno negato la deroga chiesta dagli agricoltori della provincia di Cremona alla soglia di deflusso minimo vitale dei fiumi, richiesto dall'Unione Europea a tutela dell'ambiente. Non c'è acqua sufficiente per accontentare agricoltori e bacini idroelettrici alpini, a meno di non condannare alla secca i corsi d'acqua, facendo pagare loro il conto, esponendoli a danni di un inquinamento implacabile e ai numerosi prelievi abusivi d'acqua, dai pozzi non denunciati alle pompe idriche non autorizzate lungo i fiumi. Le proteste delle associazioni ecologiste contro l'eccesso di colture idrovore come il mais non sono state ascoltate. Il modello economico non si è adeguato al cambiamento climatico che ha notevolmente ridotto le risorse disponibili. La provincia di Cremona è tra le più penalizzate perché si trova a Valle e da parte dei consorsi irrigui come il Dunas, presieduto da Alessandro Bettoni, già si sentono toni preoccupati.